Pesaro Capitale della Cultura 2024 ha aperto un focus sulla sua tradizione di produzione e design di cucine. Dalla Sala della Repubblica e del Teatro Rossini è partito infatti il primo incontro di un ciclo di appuntamenti denominato La Cucina delle Idee, organizzato in partnership con l'azienda Scavolini e la rivista Interni. Al centro della discussione c'è la Cucina come Fucina di Creatività, Trasformazione e Innovazione, uno spazio domestico destinato alla conservazione e preparazione del cibo che si è trasformato in un ambiente multitasking, punto di relazione del nucleo familiare, cuore e cervello della casa. La Cucina delle Idee è il ciclo di incontri organizzato da Interni, la rivista di architettura e design che quest'anno tra l'altro storica che quest'anno compie 70 anni e da Scavolini in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il tema è appunto la Cucina delle Idee nel senso che la cucina ormai è un ambiente che intercontinua trasformazione sia dal punto di vista sociale, culturale e anche dal punto di vista pratico. Quindi attraverso tre incontri che si avvicineranno tra quello di oggi che è del 12 settembre e poi in ottobre, l'11 ottobre e il 22 di novembre. Il primo appuntamento è stato dedicato al tema della cucina legata al progetto che la sorregge. Insegno architettura degli interni al Politecnico di Milano e mi sono occupata della cucina dal punto di vista storico. Ho scritto un libro qualche anno fa e oggi faccio un escursus molto rapido su quello che è la storia della cucina, dello spazio della cucina, su cui dei designer molto famosi come Fabio Novembre, che parlerà dopo di me, stanno lavorando alacremente. E noi come interni celebriamo quest'anno un importante anniversario che sono i 70 anni che hanno seguito l'evoluzione del progetto di design, ma anche l'evoluzione del gusto. E qui stasera parliamo proprio di progetto e di trasformazione di uno spazio che è importantissimo nella casa e quindi del progetto dell'ambiente cucina. Ma anche Scavolini compie un importante compleanno, sono i 63 anni. Poi con Fabiana Scavolini abbiamo già un lungo rapporto di amicizia, quindi tornare a Pesaro dopo l'anno scorso e poi Pesaro, quest'anno è la capitale della cultura e noi con Pesaro capitale della cultura abbiamo fatto un bellissimo evento a Milano durante il fuori salone che abbiamo portato a Milano alla Sfonosfera e l'abbiamo portata all'Università Cattolica del Sacro Cuore con un grandissimo successo. Poi invece ad ottobre affronteremo il tema della cucina generazione Z, quindi come i giovani possono pensare, immaginarsi la cucina e anche viverla. E infine a novembre, il 23 di novembre, progresseremo sul tema della cucina italiana nell'ambito della internazionalità, quindi come il mondo della cucina, in particolare chiaramente parlando anche del progetto di Scavolini, sta diventando un punto di riferimento anche a livello internazionale.